Vai, parti senza domande e lascio il nostro pezzo. Allora, parti senza domande perché su un articolo che ha fatto Francesca Muzzi nel dopo partita di Cuneo viene specificato che l'allenatore non torna con la squadra perché si spiccia per tornare a casa in macchina come a puntualizzare che dopo una sconfitta, se si volesse mai puntualizzare questo, non ho riaccompagnato indietro la squadra quando invece viene specificato che la squadra è stata riaccompagnata indietro dal direttore che non è vero perché è sceso a Genova. Quindi, prima di parlare dell'unica roba che conta che sarebbe il campo tenevo a specificare che mi si può appuntare tutto quello che si vuole dal punto di vista tecnico professionale no, questa roba qua. Prima volta che lo dico, ultima volta che lo dico, se no mazzo e me ne vado, non parlo più in conferenza stampa se vogliamo discutere di aspetti tecnici bene, se vogliamo discutere del grande fratello o delle cazzate del genere non mi sta bene perché va adedere la mia professionalità quando invece sono venuto ad Arezzo esclusivamente per lavorare per tentare di farlo nel miglior modo possibile quindi non mi stanno bene a punti di questo genere qua se è usuale farli bisogna cambiare un registro velocemente perché con me è una roba che non va fatta perché non sta bene a me prima cosa che volevo puntualizzare la seconda prendo spunto da qualcosa che ho letto da qualcosa che ho sentito in qualche intervista fatta a qualche nostro tesserato o qualche nostro dirigente e poi tocco un altro aspetto visto che sono stato a pranzo col direttore e col presidente e l'aspetto che volevo toccare è questo siccome sono otto mesi che sono ad Arezzo sono otto mesi che sento parlare di battaglia totale dell'anno scorso battaglia totale quando sento continuamente parlare di battaglia totale presumo che chi parla di battaglia totale presupponga il fatto che la battaglia totale che avete vissuto l'anno scorso abbiano fatto parte nell'aspetto sportivo, società, calciatori e staff tecnico nell'aspetto ambientale, voi giornalisti, i tifosi e tutto quello che va dietro a quello che è successo facciamo così nell'italiano mediocre questo è il mio punto di vista nell'italiano mediocre quando l'acqua tocca il culo che a me si dice così dalle parti mesi si dice così l'italiano mediocre tira fuori tutto quello che c'ha quindi nella situazione di enorme difficoltà tutti noi italiani tiriamo fuori tutto quello che abbiamo allora la domanda che vi faccio è questa perché visto che giustamente mettete in risalto questo aspetto qua riferito all'anno scorso quando stava andando tutto a rotoli e tutti quanti avete fatto il 110% per far sì che la cosa non andasse a rotoli perché in un momento dove possiamo inseguire una cosa che sono anni che non viene vissuta non abbiamo lo stesso impeto lo stesso senso senso d'appartenenza lo stesso attaccamento alla maglia non c'è ora voi mi guardate per dire che cazzo sta dicendo l'anatore l'anatore sta dicendo che mi tocca sentire che dopo la partita che vinciamo con l'olbia stiamo a fare i paladini della meritocrazia che allora quando siamo tifosissimi dell'Arezzo quando l'Arezzo sta andando a rotoli come l'anno scorso siamo i paladini della giustizia sportiva quando non abbiamo ammazzato l'olbia non ci meritavamo di vincere oppure sento dire che si può perdere a cuneo poi succede che l'entella perde a cuneo o la pistoiese batte il siena a siena e ci sentiamo tutti quanti rinfrancati perché allora non siamo lungo noi di noi succede che pure il siena perde in casa con la pistoiese oppure l'entella va a cuneo e perde con l'entella non funziona così ragazzi allora io vi dico vi invito e perché vi dico vi invito perché sennò faremo da soli vedo un'altra soluzione se quando l'acqua tocca il culo siamo tutti dalla stessa parte siamo tutti idealmente ultras dell'Arezzo perché non possiamo essere tutti idealmente ultras dell'Arezzo anche in una situazione dove possiamo inseguire un sogno che magari oggi è più grande di noi e invece stiamo lì a trovare il pelo nell'uovo o mi sento fare domande ma la squadra sarà tranquilla no siamo come ambiente che non siamo tranquilli il problema della squadra non c'è oggi noi siamo tutti tranquilli fuori che nell'aspetto ambientale un po' per un motivo un po' per un altro quando persi tempo perché se oggi 7 marzo vi dico questo proprio qua vuol dire che per buona parte di quello che ho detto ho perso del tempo che non stavo lì a guardare se la mia squadra palleggia bene o se fa 50 passaggi consecutivi o se sto a guardare che la squadra tenti di produrre un calcio logico è fruttuoso nell'aspetto dei risultati non essendo noi la squadra più forte del campionato e lo ridico oggi 7 marzo per l'ultima volta noi passiamo da dopo la partita con la Pro Vercelli che perdiamo a Vercelli a dire mi sa che la Pro Vercelli è più forte abbiamo detto tutti che abbiamo avuto la sensazione che la Pro Vercelli fosse una squadra che con noi non c'entrava niente sei giornate dopo diciamo ma possiamo arrivare a primi facciamo passi col cervello e tentiamo di trovare una via che sia comune per trovare una via che sia comune il resto è l'idea che per costruire una grande impresa modello l'anno scorso perché la salvezza dell'anno scorso equivale a una vittoria di un campionato di Serie C è uguale identica osserva che la squadra vada a destra che l'allenatore vada a destra che la società vada a destra che i giornalisti vada a destra che il pubblico vada a destra perché se uno di questi componenti va a sinistra storciamo qualcosa allora l'invito che vi faccio è dopo parliamo della partita con il Novara che è l'unica cosa che mi interessa questo non vuol dire che la squadra o l'allenatore non può essere criticato quando le cose non vanno bene ma ci mancherebbe altro fa parte del mio lavoro però l'aspetto il vedere il bicchiere mezzo pieno quando l'acqua tocca il limite massimo si può vedere anche quando l'acqua non tocca il limite massimo e quando invece stiamo andando tutti insieme alla ricerca di un risultato storico per la nostra città non è nemmeno mia io dico nostra perché a oggi mi sento come un aretino o per la nostra società o per chi ha speso i soldi e tutto quello che va dicendo perché se non facciamo in questo modo qua quando tre o quattro settimane va vi dissi che mi sembrava che l'ambiente fosse diventato presuntuoso oggi non è che mi sembra che è diventato presuntuoso è presuntuoso l'ambiente allora l'unica cosa che mi interessa oggi è lavorare ritorno a dirvi quello che vi dicevo prima di parlare dello step di 40 punti lo step di 50 punti noi dobbiamo lavorare pensare anche che dobbiamo fare una partita alla volta senza stare a vedere se Lentella vincerà il recupero col Cuneo o se il Siena vincerà il recupero con la Pistoiese non mi frega niente né di quello che fa Lentella né di quello che fa il Siena mi frega di quello che dobbiamo andare a fare noi dopo domani contro il Novara e mi piacerebbe che tutto l'ambiente fosse schierato no a chiacchiere a fatti dalla parte di un gruppo che ha speso dal 14 di luglio tutto quello che ha e ha oggi dopo la sconfitta di Cuneo ha profuso il 110% delle proprie qualità e allora siccome non ho la certezza nessuno di noi ha la certezza per non la palla magica di pensare che il gruppo profonda il 110% delle proprie possibilità fino a mi auguro il 6 di giugno o il 5 di maggio o non lo so quale cavolo sarà la data può succedere pure che squadre oggi siamo in 3 punti siamo 7 squadre possiamo arrivare a secondi possiamo pure arrivare a ottali e ve lo dissi fatalità domenica scorsa allora mi piacerebbe che la cosa fosse vissuta nel modo da battaglia totale invece oggi fuori non la stiamo vivendo da battaglia ci siamo tutti quanti un pochettino ora non usiamo tutti il profumo quello buono bisogna usare un altro profumo oggi perché c'è bisogno che tutti torniamo a andare alla ricerca nel modo giusto di un obiettivo nel modo giusto che oggi invece non stiamo facendo tutti quanti insieme questo mi piacerebbe che succedesse detto questo e chiudo questo aspetto qua tutto sto minestra qua l'ho fatta perché sono stato a pranzo col direttore e col presidente mercoledì pubblicamente volevo ringraziare il direttore e il presidente perché per l'ennesima volta anche se non ce n'era bisogno nel senso che comunque sono persone che vivo quotidianamente e con cui vivo quotidianamente quindi sapevo già che pensavano il presidente mi ha ringraziato di quel che abbiamo fatto io invece li rigiro i ringraziamenti a loro perché mi hanno fatto lavorare fino al 7 di marzo mi auguro che sia così fino alla fine nel miglior modo possibile senza intracci senza intrusioni con la massima disponibilità con la massima fiducia in quello che ho fatto quindi li volevo ringraziare ho invitato il presidente e il direttore in modo positivo a pretendere che noi allenatore per primo visto che sono io responsabile di tutto i giocatori continuino a profondere l'impegno e l'ambizione di arrivare più in alto possibile che abbiamo avuto fino ad oggi e che avremo al 110% fino all'ultimo giorno in cui saremo qua in modo giusto come è stato fatto fino adesso da parte della società quindi lo volevo dire pubblicamente visto che spesso lo fanno loro io non lo faccio mai quindi penso che fosse la situazione corretta io sono a posto si c'è un idrofono se lo prendete grazie mille così iniziamo con le domande no volevo comitare un attimo questo che ha detto perché io francamente dunque sono sempre nel clima dell'impresa totale io mi sento sempre quello comunque ho capito prima ha fatto un nome no ha parlato di una collega che ha commesso una e su quello non ci sono dubbi questo è un errore grave è un errore grave ma io non lo voglio commentare questo non voglio mentare questo discorso però l'altro l'altro diciamo l'altra sua rama intera io non l'ho percepita così distintamente ecco da questo punto di vista perché non vedo almeno ripeto io non l'ho orecchiata insomma una 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 qualcosa di diverso nei confronti di una situazione che ovviamente è diversa da quella dell'anno scorso dovevamo dovevamo unirci tutti perché era un'impresa totale da fare tutti c'era una necessità che oggi non c'è perché però oggi non c'è il calcio non sta per sparire d'arezzo no vedi allora vieni con quello che ti ho detto prima non deve essere che quando stiamo per affogare siamo tutti uniti perché non possiamo essere tutti tutti no ma io mi sento unito come prima no ma io non c'è ma i fatti non sono questi però io ho espresso la mia opinione sì no io non ho rilevato diciamo nell'ambiente in generale poi ovviamente ognuno qui si esprime come sai come può ma il fatto che puntualizzo pure che non vuole essere se non sembra che mi si può di niente per amor di dio perdiamo a cuneo perdiamo a cuneo e accetto le critiche inerenti all'aspetto tecnico senza nessun problema secondo me siccome non è una percezione che ho soltanto io da dentro io che sono allenatore la comunico da fuori visto che è una cosa che può tornare utile deve tornare utile a noi perché secondo me se noi oggi non abbiamo un intento comune su una situazione come questa qua siamo dei pazzi completi ma su questo siamo d'accordissimo al 200% perché io ho soltanto rilevato che non mi ero accorto che ci fosse un qualcosa di particolare ecco in questa situazione comunque per l'anno va per Novara ecco parliamo di calcio Novara in questo momento penso che sia uno dei peggiori avversari che ci potesse capitare per una serie di ragioni ma per una concomitanza anche alle volte si ha la fortuna il calendario non conta all'inizio però invece poi di come si sviluppa ha una sua importanza una delle volte fondamentali in questo senso a portare oggi il Novara mi sembra una che difficilmente insomma ci poteva capitare qualcosa di peggio perché è una squadra che ha cambiato un allenatore ha ritrovato diciamo la voglia di crescere è una squadra fortissima perché Sudacarta è effettivamente una delle squadre che ha speso di più anche se questo secondo me non è l'unico valore insomma che bisogna verificare in una squadra e quindi io l'ho vista domenica per esempio battere bene la Provercelli e quindi essere una candidata oltretutto con quella cosa in più che sia quando si rimonta che effettivamente c'è diciamo una psicologia anche favorevole un atteggiamento psicologico favorevole quindi ecco volevo la formalizzazione andiamo a incontrare una squadra forte era pure prima dell'esonero di Viali ora ha preso pure un allenatore esperto che secondo me darà magari qualcosina in più sotto tanti altri aspetti che non toccavano prima però insomma diventa comunque come al solito una partita che secondo me vivrà su equilibri hai fatto una considerazione corretta nel senso sì diciamo i bilanci alla fine stanno perché in un bilancio grasso vuol dire che sono stati acquistati i giocatori che hanno stipendi grassi e hanno stipendi grassi di solito perché hanno fatto categorie superiori quindi va tutto di pari passo però la affrontiamo sereni giustamente incazzati perché veniamo da una sconfitta perché comunque abbiamo voglia di riprendere un cammino importante sapendo che c'è una squadra difficile ed è da vedere quanto ci permetterà di fare innovare quanto riusciremo a fare noi di nostro abbiamo sotto gli occhi un esempio pesante che è quello della Provercelli che credo che negli ultimi 5 partite ne abbia perse 4 e ne ha perse tutte con squadre di alto livello noi oggi incontriamo Novara Carrarese e Piacenza in fila dobbiamo stare molto calmi molto sereni perché il campionato non finisce dopo le 3 partite sia che abbiano che prendano una piega sia che ne prendano un'altra ci può stare che si intraprenda un filotto positivo ci può stare pure il contrario in una fase delicata della stagione ripeto dobbiamo viverla con tenacia e ambizione di voler portare a casa il massimo che possiamo portare a casa serenità nel saper leggere che può succedere infatti lo vedo come un punto importante un esame molto importante assolutamente sì ecco in questo senso poi mancheranno Pelagatti e il centroavanti Brunori che sono due colonne sono stare fino ad ora di questa rezza in questo senso ecco pensa che sia difficile qualche difficoltà ce la me la crea per forza di cose perché se li ho fatti giocare sempre il motivo c'è in generale però la squadra sta bene non ho visto stanchezza particolare noi a Cuneo ripeto io avevo fatto di esamine differenti in partite dove abbiamo avuto vedute differenti feci l'esempio del Pisa dove vincevo facevo per me una pessima gara dal punto di vista tecnico a Cuneo la squadra per me ha fatto una buona partita solo che noi siamo abituati a giudicarla in generale tutti per gli episodi che vengono fuori se i primi 20 minuti sto 2 a 0 la partita è finita e la squadra ha fatto quello che doveva fare pure nel secondo tempo dove abbiamo avuto meno situazioni pericolose per poter andare a far gol ma abbiamo sempre fatto la partita noi poi ci sono delle volte che riusciamo a concretizzare le mole di lavoro che facciamo delle volte che non ci riusciamo va così però non veniamo da una prestazione di difficoltà veniamo da una buona partita da una buona gara persa quindi la buona gara la infiliamo da un'altra parte e dobbiamo tentare dal punto di vista del risultato di fare meglio di quello che abbiamo fatto nel corso di fare meglio